ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi è martedì quindi come ogni martedì esce un nuovo video delle makeups angels un video che riguarda me e fabiana elisabetta per questa settimana vogliamo farvi riscaldare le mani e anche focalizzare con gli occhi perché vi metteremo la nostra wishlist per quanto riguarda i black friday sapete tutti che per il periodo del black friday ci saranno degli sconti strepitosi e quindi noi abbiamo fatto una bella wishlist non si sa mai che qualcuno veda questi video e quindi decide di fare anche qualche regalino i regalini sono sempre bene accetti allora in questa wishlist abbiamo messo delle cose che vorremmo acquistare proprio in quel periodo perché o che diciamo mettono degli sconti abbastanza prestigiosi vuoi anche il periodo diciamo stiamo mettendo dei soldini tipo le formichette mettono il mangiare da parte io ho messo dei soldini da parte e quindi comprerò qualcosa per il black friday allora vi faccio vedere cosa ho messo nella mia wishlist da acquistare assolutamente allora il primo prodotto che vi faccio vedere è questo credo che si veda anche bene tramite l'ipad per questo ve lo sto facendo vedere tramite l'ipad che si vede molto molto bene il primo prodotto è questo fondotinta di anastasia ho sentito decantare le lodi di questo fondotinta ne parlano tutti bene è diciamo adatto a una pelle matura e secca come la mia infatti è molto molto idratante la cosa che ho diciamo mi ha fatto mettere diciamo questo prodotto nella mia wishlist è stato il fatto di averlo provato e devo dire la verità mi è piaciuto molto quindi l'ho messo nella wishlist pronto per essere acquistato io lo posso acquistare sia da sephora che da beauty bay di solito nel periodo proprio del black friday i due siti che diciamo da cui acquisto più facilmente è proprio beauty bay e sephora perché gli sconti sono abbastanza prestigiose quindi mi va di acquistarli lì poi un altro prodotto che ho intenzione di acquistare e questo è sempre per quanto riguarda sephora qui è uscito in america se non mi sbaglio ma sicuramente a breve oppure nel periodo proprio natalizio uscirà anche in italia quindi questo l'ho messo anche nella mia wishlist perché ci sono alcuni prodotti che io vorrei utilizzare tra cui i prodotti di nars un altro di di fenty beauty eccetera questi sono dei prodotti che mi piacciono tantissimo perché ti dà quella possibilità di provare tanti rossetti in una box e queste box di sephora tenetele sempre d'occhio perché sono ottime anche come del regalo oltre i rossetti liquidi abbiamo anche quest'anno il fatto di prendere dei lip gloss c'è anche quello di tu fased che io già ce l'ho poi c'è fenty nars poi c'è l'ancome e questo patrick ta non lo so forse è una cosa americana non lo so però sempre da provare assolutamente quindi spero che questi prodotti arrivano in italia al più presto poi un altro prodotto che vorrei prendere aspettate che lo cerco allora un altro prodotto che vorrei prendere è sono i prodotti di color pop è uscita questa nuova linea di color pop con i colori top e sinceramente mi strapiacciono tantissimo siccome io tramite alcuni amici ho la possibilità di acquistare color pop quindi ho messo nella mia wishlist anche questo brand che sinceramente con i prezzi bassissimi ma la qualità è veramente ottima siccome questi colori sono colori che io diciamo prediligo di più in assoluto vedete cioè sono dei colori bellissimi stupendi anche i lip gloss sono fantastici e illuminanti sono una manna dal cielo quindi ho deciso di acquistare proprio il se ho la possibilità di acquistare direttamente il set proprio di color pop poi andiamo avanti vado veloce perché se no ci perdiamo di questa vi faccio vedere questa palettina di anastasia anastase questa palettina di natasha denona quella di con i cinque colori perché sono i colori che mi piacciono di più in questa diciamo uscita ci sarà anche l'illuminante ma sinceramente dell'illuminante non me ne faccio niente perché l'illuminante ne ho abbastanza ma di più la mia passione è tra gli ombretti e i pennelli quindi sicuramente prenderò la palettina e vi faccio vedere gli swatch della palettina che sinceramente è una cosa eccezionale e quindi la prenderò sicuramente infatti sono dei colori che io già appena l'ho vista mi sono illuminati gli occhi perché è fantastica veramente poi andiamo a degli acquisti che già sono questi acquisti già sono stati messi nel carrello di beauty bay sto parlando di julius place allora questi già sono stati messi nel carrello perché ho intenzione di prendere tutte le palettine con le sei con le sei cialde di julius place ho sentito decantare le lodi e ho visto determinati make up dalle americane africane quelle che siano spagnole eccetera eccetera con dei look veramente pazzeschi è una pigmentazione veramente da lasciare a bocca aperta io sto parlando soltanto di queste palettine con le sei cialde io ho notato che c'è tanta differenza nelle altre palettine di julius place ma queste qui sono le migliori a me piacciono tantissimo guardate cioè non posso non prenderla questa è l'altra e vabbè poi ci sono i prodotti labbra quelli no quelli non mi interessano ma di più mi interessa questa palettina e questa palettina oltretutto avevo già visto in precedenza aspettate che la vado a cercare in precedenza avevo visto proprio l'uscita di altre palettine proprio di julius place che sarebbero queste ve le faccio vedere proprio direttamente con gli swatch ed è veramente una cosa eccezionale cioè va bene che hanno la luce riflessa quindi diciamo il pigmento l'ombretto lo vedete molto più pigmentato e tutto però cioè guardate la pigmentazione dei prodotti e guardate la luce riflessa negli ombretti ed è una cosa eccezionale specialmente con questi sei ombretti a me piace tantissimo e quindi quella che voglio prendere assolutamente e adesso vi darò la chicca finale perché l'ho vista l'uscita l'ho vista cioè questa foto mi è arrivata e sinceramente gli occhi mi sono usciti di fuori perché questa è l'apice assoluta della mia wishlist infatti è quella che prediligo di più in assoluto e che mettila come vuoi la prenderò dove non lo so ma la prenderò assolutamente sto parlando della palettina di natasha denona allora questa palette mi ha fatto veramente uscire gli occhi fuori dalle orbite perché è fantastica mi piace tantissimo e dovete vedere i colori cioè questa vi giro la pagina e questi sono i colori cioè ora ditemi voi se non è una palettina da acquistare assolutamente questa farà parte del mio range di palette perché è una cosa fantastica la adoro assolutamente la prenderò a occhi chiusi non mi interessa questa diciamo scavalca tutte le altre palettine che ho visto di recente io non ho preso nemmeno una di queste grandi perché volevo qualcosa che mi stuzzicava proprio la come si dice la visione degli ombretti perché spesso ci sono degli ombretti si ce l'ho in quella palettina si ce l'ho nell'altra ma questo veramente questo mi ha colpito o vuoi il degradé della palettina del non lo so mi ha colpito proprio una cosa pazzesca e quindi la voglio prendere questa sarà la prima che acquisterò sicuro e spero che uscirà nel periodo del black friday perché prenderla in anticipo con il pagamento normale no ormai ho fatto questa questa diciamo questa promessa di non prendere le cose a prezzo pieno e subito quando escono perché molto spesso ci rimango fregato quindi preferisco utilizzare il black friday per prendere questa palettina anche se non sarò diciamo la prima a prenderla non mi interessa io corso non ne faccio e sinceramente se volete sempre una recensione corretta e diciamo no seria però sincera io ve la faccio quando ce l'avrò questi sono i prodotti che metterò nella mia wishlist ve ne ho messi alcuni perché veramente non posso mettervi tutto perché ci sarebbero tantissimi altri prodotti che voglio acquistare ad esempio sono un po' per quanto riguarda delle palettine di di uta beauty quelle piccoline le ultime tre che sono uscite sono un cuore sì un cuore no nel prenderle perché sì mi piacciono per alcune già si ripetono come colori preferisco prendere queste due di anastasia sia quella di anastasia ce l'ho con anastasia io preferisco prendere queste due di natasha denona sia quella grande che quella piccolina perché mi ci trovo bene comunque questo è tutto per quanto riguarda questo video ditemi se vi piace scusate il cappello scusate la modalità casalinga ma sinceramente non mi andava di sistemarmi in modo particolare perché stiamo ristrutturando la stanza dei ragazzi e quindi sono un po' indaffarata ditemi se vi piace la mia postazione con la mia torta questa mi è stata regalata la mia migliore amica quindi la volevo mettere in evidenza ditemi se vi piace questa diciamo esposizione con la torta perché sarebbe il mio background nuovo adesso vedrete una carrellata di video alcuni sono anche vecchi ma che già avevo fatto in caso ve li farò uscire diciamo qualcosa di seguito perché ho dei video nuovi da fare e quindi siccome ci sarà il background nuovo capirete benissimo che dove non vedrete la torta saranno dei video vecchi spero che vi piaccia lo stesso e niente che dirvi andiamo subito a sbirciare cosa acquisteranno la Lizzi e la Betty perché sono molto molto curiosa loro sono molto più esperte e quindi hanno l'occhio un pochettino più lungo del mio e quindi sono molto molto curiosa perché noi non ci non ci mandiamo delle foto per quanto riguarda i video perché ci piace avere la sorpresa proprio come l'avete voi quindi se vi piacciono le cose che ho menzionato in questo video scrivetemi un commentino sotto e se siete d'accordo con i miei acquisti oppure no e se avete anche voi la vostra wishlist ditemi cosa vorreste acquistare così ando a dare una sbirciata e chissà che la mia wishlist sicuro da qui al prossimo mese ce ne saranno cose da mettere per questo video è tutto io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi vanno ci vediamo al prossimo video ciao ciao